Ciao a tutti e bentornati sul canale del gruppo facebook un libro tira l'altro, ovvero il passaparola dei libri, il gruppo che sta dalla parte del lettore. Noi siamo lettori curiosi, esigenti e spesso fuori dal coro. Siamo convinti che un libro sia il miglior posto per incontrarsi e conoscersi e per questo vi invitiamo a scoprire o riscoprire insieme a noi titoli famosi, classici, talvolta di nicchia o semplicemente libri diversi dai best seller di moda. Oggi parleremo della vera storia del pirata Long John Silver, titolo originale Long John Silver, romanzo del 1998 scritto dallo scrittore svedese Bjorn Larsson, spero di averlo pronunciato bene, pubblicato in Italia da Iperborea nel 2015 e tradotto da Katia De Marco. Ecco le mie impressioni. Ho sempre amato le storie di mare e pirati, pertanto ho affrontato con grande curiosità questo romanzo. Ormai vecchio e solo, Long John Silver, il famigerato antagonista di Jim nell'isola del tesoro di Stevenson, decide di scrivere le sue memorie e far sapere così a Jim, che all'epoca era stato suo ammiratore, le motivazioni che in quell'occasione lo spinsero a tradirlo. Alternando invenzione e fedele ricostruzione storica, il romanzo racconta la vita del più celebre pirata della letteratura, Long John Silver, dalla sua infanzia in Irlanda alla sua giovinezza trascorsa sulle navi militari inglesi. La maturità, che lo vede con trabandiere pirata, fino alla vecchiaia, trascorsa nell'oblio di un'isola del Madagascar. Curiosamente, nel libro si fa poco più che un accenno all'avventura che lo ha reso celebre, mentre la narrazione si sofferma di più sul suo incontro con Defoe, lo scrittore al quale racconterà le sue molte imprese, che saranno base per il primo trattato di storia della pirateria. Racconta Vincente, che punta non tanto alla riscrittura di fatti noti, ma alla caratterizzazione di un personaggio del quale non nasconde tratti negativi, come l'avidità, la mancanza di scrupoli, la propensione alla violenza e alla sregolatezza, ma che rimane impresso nella mente del lettore, per la sua tenace voglia di vivere, per la capacità di rimanere a galla e far fronte ai più improvvisi rovesci di fortuna, e per il suo amore, per la libertà, simboleggiata dalle molte opportunità che ogni volta il nostro riesce a cogliere, indipendentemente dal contesto che gliele offre. La prova di Larsson è fluida, le descrizioni sono accurate, e la ricostruzione storica di ambienti ed epoche è trattata con rigore. Nonostante una buona dose di digressione, poi, la trama scorre attraverso pagine in cui tensione, umorismo, riflessione si alternano con sapienza, e il lettore è portato a divenire complice di un gioco narrativo gestito con grande maestria, che si rivela induppiamente divertente. Consigliato a chi cerchi una lettura in grado di rinverdire i fasti della letteratura picaresca, proponendo un'angolazione originale. Se avete letto questo libro e volete discuterne con noi, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook, visitate il nostro sito o seguiteci su Instagram, trovate i link nella descrizione sotto. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like e di condividerlo con i vostri amici. A presto e buone letture!